L'importanza degli ambienti e delle piattaforme, appunto, il metaverso anche, che è la forma più spinta in qualche maniera, il portfolio digitale, voi direte che ci azzecca con gli arredi, e ci azzecca perché se io cambio il modo di lavorare, in qualche maniera cambia anche il modo poi di valutare, di mettere insieme le risorse. Faccio un esempio molto banale, se spingo un pochino l'acceleratore sui contenuti digitali, cioè sui ragazzi che creano contenuti digitali, quindi non sto parlando della scansione della fotocopia, sto parlando di un contenuto digitale, devo avere un luogo dove lui li tiene, e quindi io in classe ho dato a tutti un carrello per poter lavorare sui contenuti digitali, poi devo avere un luogo dove li tiene, deve essere un luogo sicuro e un luogo dove poter valutare quel contenuto. Vabbè, in tre minuti è meglio non farlo il PNRR, facciamo prima, no scherzo, naturalmente, però per dire che l'implicazione didattica è strettamente legata allo spazio. Vado a cose, i contenuti, tutto il tema dei contenuti, noi abbiamo per esempio sulla scuola media un'aula dedicata alla web tv e un'aula dedicata alla web radio. Se vedete sul canale Instagram, anche su Spotify, sono delle robe molto interessanti, si fa filosofia, si fa dell'arte, eccetera, eccetera. I ragazzi sono molto coinvolti, dentro ci sono competenze di arte, di italiano, di scrittura del testo, perché scrivere per la radio non è la stessa cosa che scrivere un tema, eccetera, eccetera, eccetera. Ma noi ci siamo arrivati, dopo sei anni, che facevamo il laboratorietto per i ragazzi a rischio di dispersione. Grazie a tutti.